Rimettere nel terreno i medesimi semi per provare a raccogliere frutti migliori. Dalla testa di Michele Pazienza per la partita di domani dovranno arrivare idee semplici, nuove e sorprendenti. Il tecnico Biancoverde ha messo in campo all'andata una formazione equilibrata, arrembante, solida e propositiva ed ora confermarsi con risultati differenti in termini di punteggio dovrà essere il mantra. Si deve obbligatoriamente ripartire dal buono visto nella partita in casa, dalla verve di un palmiero rispolverato per l'occasione, dalle certezze di Marco Armellino, dal lavoro sporco di Lorenzo Sgarbi, dalla brillantezza di D'Ausilio e soprattutto dalla voglia di rivalsa di Chicco Patierno. Pazienza non dovrebbe rinunciare al 3-5-2 con il ritorno di Cancellotti a destra, regione al centro e Frascatore sull'auto di sinistra. A centrocampo potrebbe servire la freschezza di Ricciardi, a sinistra Liotti. Nel cuore del centrocampo il trio inedito formato da Armellino, Parmiero e D'Ausilio. In avanti si potrebbe spendere la coppia Sgarbi-Patierno utilizzando Gorida subentrante. Resto hanno aperte le chance per Russo e Marconi, entrambi propositivi in corso d'opera. Ovvio che però la buona prestazione dell'andata potrebbe portare il mister a schierare nuovamente Sgarbi a destra e riproporre in avanti la coppia Gorida-Patierno. Chiunque sarà l'interprete dovrà avere l'unico scopo di perseguire l'obiettivo per capire se davvero la rabbia dell'andata si è trasformata in voglia di rivalsa al ritorno.